Ciao a tutti! Tutto il team di Painter's Tale Courant 1950 auguro a tutti i giocatori un meraviglioso Natale e felici Natale! Tutti si sentono amici e generosi nel Natale di Natale. È un periodo molto speciale per condividere l'amore, condividere i doni, condividere i giochi nel snow, giocando in fronte della piazza. È anche l'atmosfera giusta per scoprire nuove avventure. Potremmo anche dare un'opportunità alle producce. Se siete in modo per i luci di montagna e le tue misteriose belltose nel medio di un lago nel nord dell'Italia, aspettiamo a te sul team. Quindi, ancora, un meraviglioso Natale a tutti! Buon Natale e buone vacanze!